Ciao a tutti e a tutti, bentornati, bentornati in un nuovo vlog, ecco mi metto qua, sperando che la luce non mi accerchi, aspettate mi metto qua, che è meglio, ok ora va meglio perché c'è la luce, praticamente vi faccio vedere qua c'è la luce e adesso sono in camera di mia madre, ciao, allora parte il fatto di questo nulla di che, a Natale mi hanno regalato tra l'altro dei reggisenni nuovi, che uno nuovo ce l'ho adesso, che non vi dico niente, sono di un comodo unico e nulla, a parte quello, poi mi hanno regalato i gisenni, unghie, calze termiche tra l'altro perché io soffo molto, ma molto il freddo, si vi state chiedendo perché ho la fascia, praticamente i capelli mi sono diventati così lunghi che mi danno fastidio, così mia madre mi ha detto mettiti la fascia e non li senti, e io da allora la devo portare, si perché poi tra l'altro mi fanno male dopo un po', si qua al centro, qua al centro mi fa male perché ho tenuto per, tengo per tutto il giorno la fascia, che poi tra l'altro non riesco a neanche sistemarlo, ecco, a parte quello nulla, e io adesso vi mando un bacione e noi ci vediamo tra poco con il blog di Santo Stefano, ciao!